cari lettori buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio al professor aldo schiavone che abbiamo l'onore di ospitare sulle sulla nostra piattaforma facebook per presentare il suo ultimo libro che si intitola progresso ed è appena stato pubblicato dall'editore molino non è diciamo rituale dirlo nelle presentazioni però permettetemi di dire che è un libro bellissimo che si legge con passione perché è pieno di pensiero pieno di notizie storiche pieno anche di tanta poesia sul mondo sulla vita su quello che siamo e sulla storia quindi per prima cosa vorrei consigliarvi di tutto cuore la lettura di questo di queste pagine che sono ben più di un romanzo ben più di un saggio storico ben più di un libro di poesia sono tutto questo insieme io vorrei cominciare proprio dall'inizio di questa narrazione perché il professor schiavone parte raccontando e descrivendo un'immagine molto bella e molto significativa che è l'angelo di walter benjamin walter benjamin una delle sue tesi di filosofia della storia descrive questo angelo che ha le ali che tremolano anzi che tremano sussultano di fronte alla tempesta della storia porge lo sguardo verso il passato e ha alle sue spalle questo tempo futuro la tempesta della storia che lo travolge allora benjamin è stato un grande intellettuale del novecento profondamente sconfitto dalla storia poco dopo quelli quello scritto si butterà si butterò giù da un tempo fin porrà fino alla propria vita perché travolto da quella tempesta del novecento che tutti sappiamo cosa è stata eppure pochi come lui sono stati lucidi nel diagnosticare la storia nell'immaginarla e nel raccontarla e questo tempo che lui descrive questo angelo della storia è proprio il tempo nella tradizione biblica ed ebraica in cui è l'orientamento dell'uomo nel tempo presenta il volto lo sguardo verso il passato il futuro ci sta alle spalle il futuro è ignoto mentre il passato in qualche modo è conoscibile l'altra immagine che quella con cui invece il libro progresso si conclude è quella della del covid è una postfazione che professore aggiunge a in fondo in calce a questa trattazione e in cui sostanzialmente racconta la nostra posizione nella storia e in rapporto a questa tempesta che stiamo ancora tutti attraversando ma ci dice una cosa molto importante ci dice quanto sia inadeguata in questo contesto la metafora della guerra che è stata usatissima e continua ad essere usata per descrivere il nostro rapporto con l'epidemia e con questo con questa con questo lockdown e con questa calamità ed è una metafora molto inadeguata secondo il professore molto molto poco calzante nella realtà delle cose e in di quello che rappresenta e rappresentato il covid per tutti noi a questo punto è doveroso da parte mia cedergli la parola e di fronte a queste due a queste due immagini quella dell'inizio cioè di dove siamo dentro 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 la storia che cosa guardiamo della storia e cosa siamo dentro a che punto siamo di questo nostro presente la mia domanda relativa diciamo per contestuale al libro e al titolo progresso e a che punto stiamo sulla linea del tempo su questo in questa storia che è quella di tutti noi bene innanzitutto mi lasci dire grazie per me è un onore essere qui con voi e grazie per le cose gentili che che ha detto dunque e veniamo al punto innanzitutto sì parto dall'ultima osservazione che lei fa sì queste piccole pagine che ho scritto alla fine del libro sull'attualità sul sul covid sì è un po un mio un mio punto io considero sbagliatissima questa metafora della guerra che abbiamo invece che è stata usata e abusata e che circolata moltissimo e continua a circolare e quest'idea che che abbiamo di fronte un nemico un nemico abbiamo detto insidioso un nemico mortale un nemico che ci prende alla sprovvista e alle spalle che da qui dobbiamo saperci guardare e difendere noi dobbiamo dire che in qualche modo in queste metafore noi cerchiamo di spiegare l'ignoto con il noto e quindi la guerra è come dire nella nostra storia tristemente dolorosamente a lungo è stato per millenni nella nostra storia e noi ricorriamo al noto per spiegare qualche cosa che invece noto non è e cioè quello che è accaduto e due sono i dati importanti io credo il primo è che se a un certo momento si è verificato un errore un qualche errore nel nostro rapporto con la natura errore non voglio dire un errore di laboratorio è come qualcuno anche pensato si è verificato qualche una sconnessione diciamo meglio nel nostro rapporto con la natura e questa sconnessione ha determinato quello che si chiama il salto di specie del del virus e ha determinato l'inizio l'inizio dell'epidemia sulla quale si è inserita il processo di globalizzazione che ha reso quest'epidemia velocissima e l'ha fatta circolare come circolano come circolano le persone le merci in questo mondo il secondo aspetto che ha accentuato questa idea della metafora bellica ma l'ha indirizzato in un modo sbagliato è diciamo la medicalizzazione che quest'epidemia ha subito che è un fenomeno che non si è mai visto nella storia del del pianeta mai una medicalizzazione mondiale di un di un di una di una di un di una malattia di un processo di un processo epidemico noi abbiamo visto ancora un secolo fa la spagnola che per tanti versi somiglia a quello che abbiamo avuto adesso con una presente con un numero di morti stratosfericamente maggiore purtroppo per loro e per fortuna nostra il numero molto minore di morti anche il risultato di questa straordinaria medicalizzazione che abbiamo condotto e che si riuscite a condurre in qualche modo su scala globale e questo anche questa specie di risposta di massa e comune ci ha fatto pensare ci ha fatto andare alla metafora della guerra ma invece qualche cosa è profondamente diverso è una risposta globale nel tentativo di correggere un errore ecco questo l'errore e la medicalizzazione sono i due elementi nuovi sui quali dobbiamo riflettere e che ci portano tutti lontano dalla metafora della guerra vengo all'altra domanda che lei mi faceva a che punto siamo della nostra storia ecco io credo che noi dobbiamo fare un grande sforzo per guardare in avanti per usare ancora il punto di partenza del quadro di dello schizzo di clay su cui si è inserita l'interpretazione di benjamin e dobbiamo fare un grande sforzo per per guardare del nostro futuro perché io credo che stiamo ad un bivio drammatico ma anche ricchissimo di potenzialità nella nostra storia nella storia dell'umano su questo pianeta un bivio in cui l'accumulo di potenza che abbiamo realizzato e che realizzeremo certamente molto di più nei prossimi decenni in modo sempre più veloce in modo per così dire che si avvia a diventare sempre sempre più esponenziale questo accumulo di potenza ci mette di fronte a responsabilità enormi a responsabilità che mettono in gioco da un lato la nostra stessa sopravvivenza dall'altro lato possibilità di emancipazione dell'umano di liberazione dell'umano anche attraverso la tecnica soprattutto attraverso la tecnica di portata straordinaria di portata inaudita quale via sceglieremo sceglieremo la via di un uso distruttivo della tecnica o di un uso liberatorio della tecnica di un uso emancipatorio della tecnica questo è questa è la grande sfida che abbiamo di fronte il bivio che abbiamo di fronte quindi questo è il punto del tempo in cui noi ci troviamo devo dire devo dire concludo una nota non di ottimismo purtroppo perché lo scarto che c'è oggi tra la potenza della tecnica e la debolezza e la fragilità della politica e dell'etica che riusciamo a costruire per inquadrare questa potenza per dare una regola a questa potenza è enorme e si dilata sempre di più e in questo vuoto può accadere di tutto sì quello che stupisce in queste sue pagine è che è progresso è un libro esile da un punto di vista di quantità di pagine sono sono è un libro non non è un non è un monumentale però a una ha sempre costantemente una respiro larghissimo per cui il lettore viene continuamente posto come sopra una in una posizione di grande altezza e si trova davanti continuamente questo panorama della storia che che procede per per successivi ampliamenti quindi anche quando riflette su questo presente drammatico nel senso proprio di che ci troviamo di fronte a questa a questa disarmonia diciamo tra il procedere a velocità sempre più esponenziale del progresso tecnico che che anche in un in una certa misura sembra quasi far sempre meno aver sempre meno bisogno dell'uomo come 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 guidatore di questo processo da una parte dall'altra l'inadeguatezza della politica dell'etica del nostro pensare di fronte a questo progresso ecco anche in questo presentando un momento così cruciale e così drammatico nel vero senso della parola la lettura di questa di queste pagine offre sempre una una visione larga in qualche modo rischiarante il libro è un libro anche se affronta dei temi problematici è un libro rasserenante per chi lo legge e questo questo è veramente davvero molto particolare ma forse la ragione di questa capacità quasi terapeutica della sua scrittura e di questa riflessione sta in quella via mediana così originale così sorprendente per certi versi che lei ci propone nell'affrontare la storia cioè tra il considerare il cammino della vita sulla terra e poi dell'uomo il frutto di una serie di casualità incontrollabili da una parte il considerare invece la storia dell'uomo come centrale quindi torniamo alla visione appunto profondamente antropo antropocentrica e mirata che fa dell'uomo l'obiettivo del creato e la sua finalità ecco lei sceglie una via mediana ce la può raccontare e spiegare insomma per i lettori passati presenti e futuri certo e dunque intanto la ringrazio mi piace molto e lo considero un gran complimento quello che lei ha appena detto cioè che queste pagine che ho scritto ne sono pagine rasserenanti questa è una cosa è una cosa molto bella io credo io credo che che la storia se fatta bene se praticata bene sia in qualche modo sempre rasserenante io credo profondamente in una funzione diciamo così catastica del racconto storico se fatto bene ora la storia non si fa soltanto lo dico anche soprattutto per i nostri ascoltatori più giovani la storia non è sempre soltanto storia di grandi quadri e anche storia di dettagli di piccoli particolari ma la cosa importante è anche quando si fa storia di piccoli particolari di dettagli di avere sempre in mente la visione di insieme di avere sempre in mente che quel dettaglio che quel particolare quella singola vita il frammento di quella singola vita quel singolo testo è sempre dentro un quadro di insieme che non bisogna smarrire che non bisogna smarrire smarrire mai e vengo un po più precisamente invece al al tema al tema che lei che lei che lei che lei mi mi propone diciamo io credo che noi dobbiamo come dire insomma avere ben presente la somma di casualità che ci ha condotto dove siamo io le chiamo casualità perché io questo sia l'approccio come dire epistemologicamente più corretto la somma di casualità che ci ha portato ad essere dove siamo somma di casualità che non riguarda solo la storia dell'umano ma anche prima la storia della vita preumana la storia dell'universo nel quale funziona una costante che ha consentito la nascita dei sistemi planetari e dei pianeti dentro i quali è stata possibile la vita quindi una scatola dentro una scatola dentro una scatola e in questa storia infinita di casualità tutte si sono sono andate nel senso di consentire a noi di stare qui a discutere oggi di di un libro poteva andare in modi radicalmente diversi infinite volte poteva non esistere il sistema solare poteva non esistere la terra poteva non nascere la vita sulla terra e la vita poteva prendere altre strade gli organismi pluricellulari degli oceani potremmo essere dei pesci negli oceani potremmo essere dei dinosauri al posto degli umani umani profondamente diversi da quello che siamo e invece siamo noi qui ora io credo che per quanto si possa capire da quell'angolo di universo che noi riusciamo a intravedere dal buco della serratura dei nostri nostri strumenti ci consentono di renderci conto questa questo risultato la vita intelligente della nostra specie è relativamente rara io credo che tra le due immagini dell'universo che sono due immagini tutti e due inquietanti quella di un universo pullulante di vita e quella di un universo in cui la vita in qualunque forma è una rarità io credo o temo che la secondo il secondo modello sia quello sia quello più vicino sia quello più vero e allora noi siamo qualche cosa noi la nostra specie è il risultato di un accumulo strepitoso di combinazioni favorevoli è un risultato relativamente raro nella storia dell'universo se noi sommiamo insieme questi due elementi la rarità e lo strepitoso accumulo di coincidenze favorevoli di circostanze che sono andate sempre a nostro favore se noi sommiamo questi due elementi abbiamo il risultato come dire la 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 derivata di questo è che la nostra specie qualche cosa di prezioso la nostra specie qualche cosa di prezioso e quando la ne guardiamo la storia non dobbiamo assumere una prospettiva scioccamente antropocentrica l'universo è sta lì per servirci l'universo se mi posso permettere se ne frega completamente di noi non è lì né per servirci né per farci del male se ne frega e basta non gliene importa niente all'universo che noi ci siamo e però detto questo quindi rifiutando qualunque antropocentrismo ecco la via mediana di cui lei diceva rifiutato qualunque antropocentrismo bisogna pure tenere in conto da storici questo accumulo strepitoso di circostanze favorevoli e questa rarità che probabilmente noi noi rappresentiamo noi siamo ecco questo è un po la via mediana che lei diceva che io propongo nell'interpretazione della storia dell'umano e della storia della vita su questo pianeta sì è una un sentito una piccolo ehm nel libro è citato un grandissimo paleontologo e stefan jay gould il quale invece sia pure con una qualche contraddizione sostiene sostiene la visione come dire radicalmente non antropocentrica siamo un caso e basta è poco da fare un microscopico ramo nel tronco sul tronco della vita vero a me a me è capitato di discutere con lui una ricordo benissimo una sera a harvard abbiamo fatto una discussione lunghissima di più di due ore ci siamo trattenuti in questo piccolo ristorante a discutere di questo e lui si ostinava cioè si ostinava insisteva nel dire che 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 nella mia visione c'era un fondo diciamo religioso che questo antropocentrismo nascosto che io e come dire ehm sotterraneo e embedded diceva lui che io che io professavo diciamo aveva un fondo religioso che io non ero riuscito veramente a risolvere questo lo dico come contributo alla mia critica alla critica delle mie posizioni può dar sicuro a queste ragioni che avessi porto chi lo sa ma certamente tra queste due immagini voglio dire noi è frutto o colpa o merito delle tradizioni religiose nel loro complesso l'uomo è affascinato da da secoli dalla visione antropocentrica non ne ammette un'altra ma nello stesso tempo si lascia come dire veramente suggestionare si lascia incantare da questa visione nell'arte nel pensiero però forse non è così priva di poesia e di suggestione e anche come dire di fascino intellettuale l'idea di gould per cui siamo non siamo niente cioè è vero che ci smarrisce però questa visione ci potrà ci può anche condurre su una strada ancora una volta rasserenante il fatto di non contare nell'universo e di essere una sequenza di il frutto di una sequenza di casi improbabili può non essere solo una cosa che sgomenta ma anche qualcosa che ci pone cc da ci dà misura di quello che non dobbiamo sprecare nella nostra vita personale e nella storia no assolutamente d'accordo e condivido quello che dice la visione di gould non è una visione disperante né disperata assolutamente ragione lei c'è un elemento come dire di serenità di rapacificazione in qualche modo in questa come dire riscoperta della della scoperta della dell'assoluta nullità ecco di questa di questa come dire siamo zero detto questo detto questo io credo che forse si possa andare un po oltre e si possa come dire mettere accanto aggiungere a questo zero qualche cosa qualche cosa in più che io ho cercato appunto di tematizzare come lei dice nel libro forse una come dire un modo di concettualizzarlo non ancora abbastanza approfondito ci come dire ci penserò ancora però però io credo che dobbiamo fare un passo avanti per capire meglio questo punto che comunque è un punto un punto un punto cruciale certamente e in questo contesto lei pensa che il fatto di cercare di capire a che punto siamo sulla linea della storia perché poi il tema del libro è quello è fondamentale per capire anche appunto che cosa qual è la nostra posizione non solo nel tempo ma anche nello spazio nel senso nello spazio dell'universo penso appunto ai al concetto di progresso che è quello che centrale nel libro ma lei a un certo punto parla anche di regressione quindi come c'è il progresso c'è la possibilità di regressione noi vengo a vengo al tempo dunque certamente certamente io vorrei come dire chiarire bene anche per per chi ci ascolta o ci vede e non ha letto il libro che pensare che noi siamo alle soglie di un grande di un ulteriore straordinario salto tecnologico che porterà l'umano in una nuova dimensione per lui del tutto sconosciuta non è un discorso che debba in quanto tale riempirci di ottimismo tutt'altro questo salto comporta rischi spaventosi lo dicevo prima rispondendo alla sua prima domanda e lo ripeto adesso noi abbiamo di fronte a noi dei rischi spaventosi di non riuscire a controllare in modo razionale quindi non riuscire a controllare nell'interesse dell'umano dell'umano nella sua interezza la potenza di cui ci stiamo rendendo capaci e questo può portare addirittura alla distruzione alla fine della storia della nostra della nostra specie quindi io sono da questo punto di vista tutt'altro che che come dire che ingenuamente che ingenuamente ottimista ecco mi sollecita la domanda dello spazio che appunto siamo nello spazio dell'universo mi sollecita molto noi siamo come come sappiamo tutti bene o molti sanno noi viviamo in un piccolo sistema planetario ai margini estremi di una galassia tra le tante naturalmente noi una galassia non possiamo collocarla nell'universo perché perché l'universo proprio questo che 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 non ha un centro naturalmente non possiamo dire una galassia ai margini dell'universo ma possiamo dire perché la galassia è un sistema chiuso che il nostro sistema solare è ai margini della nostra galassia la galassia nell'universo dio lo sa ma noi siamo ai margini di questa all'estrema periferia di questa galassia e dicono i teorici di scrittori di fantascienza bravi che questa perifericità ci ha messo ai margini come dire di grandi civiltà galattiche che avrebbero potuto esistere che magari possono esistere che ci ignorano quasi perché noi abbiamo una posizione estremamente marginale nel quadro come dire nella geografia della della galassia ecco se noi assumiamo la prospettiva di guld questa come dire marginalità estrema dal punto di vista astronomico diciamo sì di geografia astronomica si traduce in una in una insignificanza complessiva della nostra esperienza io dico che questa prospettiva si può anche rovesciare si può anche rovesciare questo pianetino sperduto ai margini della galassia può essere come dire la scena la scena dove avviene qualche cosa di unico di ripetibile comunque di estremamente raro prima dicevo di di prezioso ripeto questo oggettivo e quindi da 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 seguire da curare e da auto curare con grandissima attenzione estrema marginalità valore e valore come dire prezioso ecco tra questi due scenari ci dobbiamo ci dobbiamo saper muovere con con grande attenzione senza iubris senza come dire senza una una sciocca presunzione di specie ma anche ma anche nemmeno senza come dire una giusta valutazione di quello che siamo e di quello che abbiamo costruito molto molto vero e molto profondo quello che dice mi c'è loredana che ci ci sta seguendo che formula una sequenza di domande credo molto interessante se siamo una rarità è frutto del caso anche le nostre scelte sono frutto del caso qui entriamo in un ambito che non è propriamente la storia ma non siamo quindi responsabili e non siamo responsabili della nostra storia che cosa ne pensa professore no io credo come dice lei giustamente entriamo entriamo in un altro campo naturalmente io credo che in larga misura noi siamo responsabili delle nostre scelte e credo una cosa che più passa il tempo parlo in genere di intere società più passa il tempo più la potenza della tecnica a nostra disposizione ci mette in grado di scegliere responsabilmente tra molte strade quindi aumenta lo spettro delle nostre scelte faccio un esempio io sono convinto che un uomo antico un uomo che viveva nella roma del primo secolo avanti cristo e che faceva il contadino come quasi tutti gli uomini antichi perché gli uomini antichi facevano pochissimi i filosofi dei letterati e moltissimo i contadini che davano mangiare che davano davano da mangiare a tutti un contadino della roma antica avesse pochissime possibilità di scegliere avessi un quadro di scelte nella sua vita minimo se non quasi inesistente se non fosse quello di lottare dalla mattina alla sera per per sopravvivere e per riprodursi se era possibile e per mangiare e sopravvivere innanzitutto oggi un cittadino medio di questo paese ha di fronte a sé un quadro di scelte certo con molti condizionamenti con molte ingiustizie con molte diseguaglianze con tutto quello che noi conosciamo ma un quadro di scelte enormemente più ampio e questo è un risultato dell'aumento di potenza della tecnica che è come dire che funziona all'interno di queste diverse società quindi io credo io credo che che sempre di più oggi noi siamo in grado di scegliere sempre di più umani sono in grado di scegliere le scelte non toccano solo a poche migliaia di persone ma toccano a miliardi di persone questo complica moltissimo il gioco della storia rende molto più complicato il gioco della storia ma loro lo rende anche più bello e più esaltante e più complesso che in fondo dobbiamo incominciare a considerare la complessità come un valore e non come una complicazione per cui a proposito di complessità e tornando al libro una delle sue complessità intese come motivo di riflessione di ancora una volta di fascinazione è che lei usa una serie di concetti come dire complessi come quello di verità relativa verità la verità di per definizione dovrebbe essere assiomatica unica invece questa idea di una verità relativa proprio a proposito di questa di questa sua via mediana no che sta fra la casualità e l'antropocentrismo ma in qualche modo si sottrae alla una visione religiosa un altro un altro concetto che io ho trovato molto 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 stimolante quello del tempo profondo quel tempo che e che dobbiamo ogni tanto tenere presente perché noi siamo abituati a ragionare in termini di anni decenni secoli magari millenni senza pensare che l'uomo sapiens e prima ancora il neandertaliano hanno vissuto centinaia di migliaia di anni quindi veramente il tempo profondo in qualche modo deve coinvolgerci poi c'è un'altra un'altra complessità che viene fuori ancora una volta dal dai nostri dai nostri come si chiamano ascoltatori lettori mettiamo così che è quella tra sviluppo e progresso sì ecco che cosa che vito carucci ci dice sviluppo progresso è ancora attuale questa dicotomia che che differenza c'è dunque sviluppo e crescita adesso per fare un minimo di filologia sono sono categorie che hanno usato soprattutto gli storici dell'economia che è una disciplina che ha avuto un grandissimo un grandissimo peso e una grandissima importanza nel formare la nostra mentalità di uomini diciamo del ventesimo e del ventunesimo secolo poi a un certo momento gli economisti hanno preferito alla parola sviluppo che era troppo impegnativa la parola un po' più nera crescita invece che development growth perché 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 trovavano questa parola crescita meno meno impegnativa dal punto di vista anche anche del giudizio di valore su quello che cresceva insomma ecco invece la parola progresso è una parola usata più dagli storici e dai filosofi quindi ha una curvatura e ha avuto sempre nella storia diciamo dal 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 da volta alla fine del novecento ha avuto una curvatura sempre più come vogliamo dire storico filosofica diciamo così rispetto all'altra che invece più più economicista insomma ecco io devo dire preferisco preferisco la parola preferisco parlare di progresso ecco preferisco parlare di progresso in rapporto proprio a quello che lei diceva cioè alla considerazione dei tempi lunghi della storia dei tempi profondi vorrei dire riallacciandomi a quanto diceva diceva lei prima io credo che anche la considerazione del tempo profondo è una considerazione che in qualche modo era serena che come dire che che ci pacifica che ci mette in pace pensare che noi siamo dentro una storia di milioni di anni noi come esseri umani non parlo nemmeno della storia della vita che è una che è una vicenda di miliardi di anni ma noi come esseri umani abbiamo una storia di milioni di anni alle spalle e l'homo sapiens di molte centinaia di migliaia di anni alle nostre spalle pensiamo pensiamo che cosa è stato questo questo cammino usiamo la metafora del camminare che può essere anche discutito è stata questa vicenda che cosa è stata questa vicenda nella quale noi noi siamo noi siamo come dire gettati dentro come specie e questo anche in qualche modo ci rasseriene e rende anche come dire rende anche niente ridimensiona le nostre angosce ridimensiona anche anche come dire la tragicità della nostra fine in fondo la nostra fine è niente è tutta indiottita dentro questa trama lunghissima che stiamo dicendo si sviluppa insomma che si costruisce che si costruisce attraverso il tempo e quindi questo in qualche modo ci rasserena io credo dovrebbe rasserenarci anche anche dal punto di vista come dire delle nostre angosce e di non so confronto con la fine col finito che muore col finito che finisce insomma ecco invece a proposito di diciamo binomi o paradossi quasi quasi ossimori meno rasserenanti mi pare di capire dalla lettura del suo libro che quello di intelligenza artificiale è decisamente meno diciamo meno compatibile con le nostre angosce con le nostre paura con le nostre paure lei dedica delle pagine diciamo illuminanti su quello che appunto quello che è il rischio di una cosa che di per sé queste due parole insieme fanno fatica a stare insieme intelligenza artificiale no sì sì è vero ha ragione perfettamente devo dire devo dire che se io penso a un futuro molto lontano se io cerco di proiettarmi in futuro molto lontano io io vedo sempre meno questa contrapposizione uomo umano e macchina come due universi contrapposti quindi il naturale e l'artificiale io quello che vedo è è un punto di fusione io credo che noi quando io parlo di un umano che esce oltre la sua specie che fa anche lui il salto di specie oltre la specie io penso ad un umano nel quale quello che è naturale quello che è artificiale diventerà sempre più difficilmente distinguibile ecco anche quando noi pensiamo in un certo tipo di fantascienza non c'è niente di male a citarla ai cyborg anche lì c'è una una rappresentazione rozza e no l'essere umano che ha una parte che invece meccanica e una parte che invece biologica in un modo così grossolano una specie di frankenstein in cui si uniscono gambe artificiali braccia artificiali e occhi che vedono di notte e con i raggi x e invece un cervello ancora naturale io credo che l'intreccio che noi sia che noi ci prepariamo a costruire sarà molto più sottile passerà attraverso operazioni di ingegneria genetica che noi non riusciamo nemmeno a immaginare adesso passerà attraverso nanotecnologie che e quindi impianti diciamo così artificiali nell'umano che si intrecceranno con le trasformazioni con gli interventi di ingegneria genetica il risultato sarà un salto oltre la specie nel quale io credo sarà sempre sempre più difficile distinguere in modo rigoroso quello che è naturale e quello che è artificiale e quindi anche la nostra intelligenza certamente andremo io credo ad un potenziamento strepitoso delle nostre capacità cognitive grazie all'integrazione esterna o interna dal punto di vista della nostra corporeità ma la nostra integrazione con le macchine la nostra capacità di interfacciare con le con le macchine con macchine che poi saranno sempre sempre meno macchine e sempre più come dire assumeranno dimensione e e e forma e forma umana e il risultato sarà 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 una una fusione io vedo la fusione non vedo la la contrapposizione questa è una cosa che detta così può spaventare io credo invece noi dobbiamo cominciare a guardare perché come dire meno ne parliamo più noi saremo impreparati quando queste modifiche ti realizzeranno e non saremo capaci di controllarle con etica con la politica con la ragione con l'etica quindi quindi noi dobbiamo anzi invece prepararci parlandone con anticipo con anticipo e questo anche una risposta un po al punto a che punto siamo nel nella storia siamo ad un punto in cui dobbiamo preparare la svolta che ci aspetta e prepararla col massimo dell'in della razionalità possibile che non è poco quindi dovremmo imparare a far diventare naturale questa intelligenza artificiale in qualche modo per il momento però siamo ancora un po diciamo stiamo un po a naspando post siamo un po a naspando e come dice barbara un'altra lettrice occorrerebbe aumentare le ore di storia nelle nei programmi scolastici per far capire questi concetti agli studenti perché in effetti sono cose che ci coinvolgono tutti fanno parte della nostra vita del nostro futuro più che mai di quello degli studenti e più che mai in tempi come questi in cui poi poi i nostri poveri studenti non hanno la scuola no quindi ecco e tornando a questo nostro progresso a questa nostra questo nostro presente e lei parlava prima di questi questi progressi della scienza e che che vanno nella costruzione del cyber uomo però prima di questo c'è forse un dato importante del del progresso soprattutto di questi ultimi decenni e nonostante le grandi tragedie del novecento ed è quella cosa a cui accenna non so neanche come definirlo iuvala rari è uno storico ma anche un pensatore uno scrittore in cui lui spiega che forse il grande il grande il grande dato di progresso di questo nostro presente quello di aver tolto valore alla sofferenza anzi di aver creato un'etica comune che quella che la sofferenza va eliminata e combattuta il più possibile mentre nel passato della storia la sofferenza sempre il dolore sempre molto spesso ha avuto una valenza una valenza etica una valenza religiosa il nostro presente in qualche modo si pone si pone come nemico del 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 dolore ecco lei ritiene che questa possa essere veramente la cifra del progresso contemporaneo no io credo questo è un punto molto importante a lei credo insomma ha fatto molto bene a toccarlo io io credo che uno dei rischi più grandi che le società contemporanee corrono devo dire soprattutto in occidente qui è un punto in cui c'è ancora una separazione tra le società come dire dell'occidente le società atalantiche che hanno avuto origine atalantica diciamo e le società dell'oriente e noi abbiamo 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 rimosso il dolore e la morte dalle nostre dalle nostre società dal nostro del mondo dal nostro modo di rappresentarci nelle società il dolore e la morte che invece sono due cose che attengono alla nostra finitezza il finito è dolore e il finito è morte il finito finisce in quanto tal se non fosse se non morisse non sarebbe finito e il finito è dolore cioè ecco è come dire presa d'atto dei propri limiti il dolore è sempre questo l'urtare contro i propri virus lo sbattere contro i propri limiti fisici mentali emotivi cognitivi e sbattere con i propri limiti e la morte è il finito che finisce io credo che una presa di coscienza della potenza della tecnica e quindi anche della nostra capacità di come dire allontanare di rimanipolare sia il dolore sia la morte ci deve nello stesso tempo come dire riabituare al dolore e alla morte proprio nella misura in cui noi stiamo per come dire rimanipolare rielaborare questi due punti cruciali della nostra esistenza morte e dolore perché l'aumento di potenza della tecnica e anche questo meno dolore e morte più lontana e più in qualche modo confusa ecco ma proprio nella misura in cui riusciamo a fare questo noi dobbiamo reintrodurre il senso e la forza e il significato del valore e della morte della fine del finito che finisce e del finito che sbatte dolorosamente contro i propri limiti io credo che che questa è è proprio un grande compito dell'etica contemporanea ecco un grande compito dell'etica contemporanea sì perché è molto vero che sulla sulla morte c'è c'è una rimozione c'è una rimozione collettiva e c'è anche forse che poi è lo specchio della paura e dello specchio del della della nostra come dire dell'illusione di poter raggiungere a un certo punto l'immortalità perché forse il cammino dell'uomo è tutto lì non nel nel combattere una fine che sa che è certa e pensare che provare a immaginarsi senza questa fine perché è triste pensare che che sì che si muoie che tutto e che tutto debba finire così come è cominciato beh insomma qui ci sarebbe da chiacchierare ancora per e ascoltarla ancora per ore ma il tempo non quello profondo ma quello quotidiano è invece molto sottile qualche una un'altra lettrice ci ci domanda se stiamo andando verso un nuovo umanesimo forse ecco se ha qualcosa da da suggerire questo dobbiamo costruirlo dobbiamo essere capaci di andare verso un nuovo umanesimo non ci stiamo ahimè andando ma dobbiamo noi essere capaci di costruirlo ne abbiamo bisogno abbiamo bisogno di una nuova interpretazione dell'umano in grado di 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 come dire di collocarci nella storia nel tempo per riprendere i fili della nostra discussione quindi abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo ne abbiamo un gran bisogno e di un umanesimo che però diciamo non si dimentichi anche che siamo microscopico ramo sul tronco della che è un'immagine sul tronco della vita no appesi lì così per caso per 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 un filo diciamo di quindi io a questo punto la ringrazio tantissimo e consiglio vivamente di cuore compassione a tutti i nostri lettori di addentrarsi in queste pagine che non sono molte ma sono veramente illuminanti e ancora una volta rasserenanti e ringrazio il professor alzo schiavone autore del progresso appena pubblicato dalla casa editrice il mulino buona serata a tutti e grazie ancora professore grazie a lei grazie a tutti voi grazie grazie